Nell'ambito del progetto integrato sistema produttivo locale del Senisese, la giunta regionale su proposta del presidente De Filippo ha approvato un avviso per la concessione di contributi per l'insediamento di nove piccole e medie imprese nelle aree artigianali e industriali dei comuni del comprensorio. Le agevolazioni potranno essere concesse entro il 31 dicembre 2011 da sviluppo Basilicata, soggetto gestore del progetto. Ammissibili le agevolazioni per le spese di progettazione del programma di investimento nel limite massimo del 5%. Ciascuna impresa non potrà presentare più di una domanda di contributo e in ogni caso, per ogni piano di investimento, l'importo massimo concedibile non potrà eccedere i 300.000 euro. Al fine di fornire assistenza ai potenziali beneficiari, la giunta ha istituito anche presso la sede dell'ex comunità montana Altosigni, nella zona industriale di Senise, un punto informativo territoriale.